Ciao ragazzi, riaccomi oggi sul canale come vi avevo promesso oggi spacchettiamo Avon che mi è appena arrivato sono stati due pacchettini e ora vi mostro un po' di cosine e anche qualche novità che mi è stata ordinata allora qui abbiamo la fattura così magari vi dico i prezzi il catalogo di campagna 15 di aprile con un nuovo profumo faraway poi abbiamo il nuovo catalogo il catalogo casa eccolo qua primavera con un sacco di cose molto carine poi vabbè lavon per te e alcuni sconti per presentatrici ora partiamo allora mi è stato ordinato un set della celebre quindi troviamo tre prodotti allora che sono questi che allora lo spray profumato questo qui poi c'è il deodorante roll on e il profumino un full side da 50 ml di prodotto vi faccio vedere vi faccio vedere il pack ed eccolo qua sentite il casino è un aereo che sta passando sopra casa mia e quindi questo è il profumino allora il set era in catalogo e volevo vedere il prezzo così vi dico no no questo non è lo troverò 12 euro e 99 tutti e tre i pezzi quindi tutti e tre i prodottini bene scusate se non sono più abituata a fare video sono un po' imbranata poi mi hanno ordinato questo sapone per le mani happiness cos'è fresia e pomo granade comunque sapone liquido molto carino da 250 ml di prodotto allora il sapone per le mani è costato 2 euro e 50 poi mi hanno ordinato una cremina mani questa qui all'avocado che è per le pelli molto secche dalle molto secche alle secche quindi questa qua la cremina è costata 1 euro e 99 poi il mascara questo è l'euforic black as black anche io ce l'ho questo e devo dire che è molto molto bello lo devo ancora provare però ha un bel scovolino e il pack è molto bello allora l'euforic è costato 7 euro e 99 poi passiamo adesso a dei prodotti che sono queste pantofole in fra dito eccole qua queste pantofoline sono la taglia 38-39 si chiamano pedicure slipper eccole qua queste qua le troviamo a 8 euro e 99 molto carine morbide poi hanno una bella suola dietro non sono mie quindi io non le posso aprire però sono molto molto carine poi ci stanno questo di campagna e poi altre due cose in anteprima quindi vi faccio vedere intanto questo è una camicia da notte della cotonella molto bella adesso andiamo ad aprire perché comunque è di mia sorella e posso farlo ve la mostro il prezzo di questa camicia da notte taglia 46 è di 29,99 euro allora bene impacchettata allora si presenta così e scende cortina che bel cotone è morbidissimo veramente un cotone molto buono al tatto è proprio proprio bella è un bianco ma tendente un po' al panna non è bianco candido è molto molto bella devo dire che poi ha le spalline regolabili fortunatamente è molto molto carina per chi piacciono le camicie da notte io non le utilizzo però questa è veramente bella bell'acquisto poi andiamo a vedere altre due cosine che sono allora questa che è un'anteprima che uscirà appunto nella campagna 15 e la troverete a aspettate che dopo guardo la catalogo comunque sempre di cotonella è un giro collo mezza manica fashion in and out cotone bielastico eccolo qui molto bella anche la confezione allora andiamo alla vedere ha scelto il blu c'era anche la variante in bianco questa è la maglia qui davanti al pizzo e le maniche sono lunghette anche questo è un cotone veramente bello morbido stupendo in taglia mi pare che sia una L sì L e adesso vi dico anche il prezzo da catalogo se mia sorella mi passa l'anteprima che non so se ce l'ho qua ho aspettato forse ce l'ho allora l'anteprima la posso trovare forse se l'impegno eccola la troverete appunto in catalogo al prezzo di 17 euro in 50 di 17 euro in 50 e c'è sia blu che bianca appunto ok e questa è la maglietta cotonella bellissima per ultimo ma non per importanza è sempre un prodotto aspettate un attimo perché non mi pare che era un anteprima questa però non mi ricordo borsa no a 39 euro e 99 dal catalogo appunto trovate questa bellissima borsa color rosa che adesso vi mostro la posso aprire e icons allora qui davanti a questo loghino qui c'è un pendente che magari dopo lo andiamo a scartare non posso aprirvelo perché c'è lo scotch è sia a mano che a tracolla quindi qua dentro trovate appunto la tracolla che è bella lunghina e dentro è molto capiente quanta carta e dentro trovate appunto la borsa veramente veramente grande e ci sta il portatelefono e un'altra zip interna molto grande molto spaziosa quindi veramente bella e poi questo è un colore veramente bellissimo per la primavera estate bella 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 e niente ragazzi questi sono tutti i prodotti che mi sono stati ordinati nella campagna 14 spero che il video vi sia piaciuto spolliciate mettete un bel like al video iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto potete seguirmi anche su instagram che ho iniziato a postare anche lì qualche cosina ogni tanto a frebrown90 quindi andate anche su instagram e niente ragazzi vi saluto e ci vediamo con i prossimi spacchettamenti un bacione e al prossimo video che ho iniziato a postare